Ciao a tutti, oggi facciamo la cioccolata calda! Ma pizza! No! Ma pizza! 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 No, la cioccolata calda. Mettete del pentolino e una secola di patate. TADAN! Mettete lo zucchero. Mettete il cacao amaro. Adesso mescolate un pochino. Adesso mescolate un pochino. Mettete un pochino di latte e dopo mescolate. Adesso mescolate. Prima si affamano il blu. Lo mettete anche in l'estero. Lo provate. Lo mettete al fuoco così che si affamano. Lo mettete sul fuoco finchè non diventa che moda. E' la mia cioccolata calda. E' la mia! Adesso lo facciamo. E' buona questa cioccolata. E' buona questa cioccolata! Dio tenere tutti i grazie. Dio tenere tutti i grazie. Dio tenere tutti i grazie. No, a me! A me! A me al mio bagno. Dai! Dimmi grazie! Grazie! E' buona questa cioccolata! Lo faccio bene? E' buona! no, no, no e noi facciamo che è da Ciao